Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana con i consiglieri Andrea Smacchi, Partito Democratico, e Massimo Mantovani, nuovo centrodestra. Entrambi facenti parte della Commissione per le Riforme, quindi Commissione Statuto della Regione, di cui Andrea Smacchi è Presidente. E quindi in queste settimane anche coinvolti in una superattività, Presidente, perché c'è la legge elettorale regionale da fare, da fare in tempi brevi, perché si deve eleggere il nuovo Consiglio regionale. Una legge che ha iniziato il suo iter, è già stato oggetto di discussione. Presidente, proprio in questi giorni Palazzo Cesaroni ha fatto un'audizione su questa legge elettorale. Presidente, come la possiamo riassumere questa novità che porta l'Umbria ad eleggere il nuovo Consiglio regionale con soli 20 consiglieri questa volta? Quali sono i punti cardine? Innanzitutto l'obiettivo, l'obiettivo da parte di tutti i commissari è quello di riavvicinare i cittadini alla politica, al Palazzo, evitare quell'astenzionismo che ha caratterizzato gli ultimi anni della politica nazionale e regionale. E questo attraverso delle colonne che sono nella proposta di modifica della legge elettorale. Ossia, il primo, l'abolizione del listino, che rappresentava il premio di maggioranza ma che è sempre stato non ben visto dai cittadini, in quanto di fatto attraverso il listino venivano nominati dei consiglieri e non eletti. Allo stesso tempo, allargando i confini delle circoscrizioni, abbiamo previsto praticamente una circoscrizione unica in tutta la regione, allo stesso tempo pensiamo che sia opportuno prevedere la cosiddetta preferenza di genere, al fine di far sì che il genere sottorappresentato possa in qualche modo avere la possibilità di avere più eletti all'interno del Consiglio regionale. Tutti elementi, tutti tasselli che in qualche modo hanno come obiettivo appunto quello di riavvicinare i cittadini alla politica. In tutto questo contesto, nella proposta che il Partito Democratico ha presentato, in questo momento c'è soltanto quella proposta, si prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Legislativa, quindi un turno unico, e di fatto un premio di maggioranza che scatta a seconda della percentuale dei voti presi dal Presidente della Regione. Fino al 40% 11 consiglieri, dal 40% al 60% 12 consiglieri, sopra il 60% 13 consiglieri. Questo è un po' il quadro generale in cui la Commissione si sta muovendo, stiamo lavorando. E' chiaro che questa è una proposta aperta, quella presentata dal Partito Democratico, una proposta che dovrà essere limata, integrata e rifinita anche sulle base delle richieste e delle aspettative. Noi vogliamo da un lato garantire la governabilità, dall'altro cercare di rappresentare al meglio anche i piccoli partiti e i territori, anche quelli più marginali. Prima di sentire Mantovani, che come centrodestra ha già fatto delle osservazioni critiche a questa che è nata come proposta del PD, viene molto dibattuta la questione del premio di maggioranza. Carano i consiglieri e c'è questo surplus che aumenta la governabilità, però non tutti la vedono in questa maniera. Qualcuno dice anche che è un po' antidemocratico che ci sia un premio di maggioranza, per cui uno con una certa percentuale di voti poi prende un po' la maggioranza assoluta all'interno dell'Aula. Il premio di maggioranza non è che aumenta la governabilità, la garantisce. I sistemi totalmente proporzionali scontano proprio questa impossibilità, nel caso in cui le proporzioni siano minime da parte di chi vince e da parte di chi perde, di governare. Noi pensiamo che questa scelta sia una scelta che va incontro anche a quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2014, che di fatto ha detto che non ci deve essere troppa sproporzione tra i voti presi e il premio di maggioranza accordato ed era riferito alla legge elettorale della Camera dei Deputati. Per venire incontro a questa esigenza, non tutte le regioni hanno fatto queste. Di fatto 19 regioni hanno deciso di andare con il turno unico e una sola regione, la regione toscana, con il doppio turno. E di queste 19 regioni, soltanto alcune hanno messo una soglia minima per far scattare il premio di maggioranza. Altre hanno detto che chi vince prende il 60%, che è il premio di maggioranza. Noi invece, anche per andare incontro a questa esigenza, abbiamo detto no, bisogna modulare il premio di maggioranza e abbiamo previsto queste tre soie, 40, sotto 40 e 60. Che a crescere significano 12 seggi o più, 13 seggi, con la clausola di salvaguardia al di sopra il 60% per le minoranze che in qualche modo non possono avere meno di 7 seggi. Mantovani, il centrodestra è piuttosto critico con questa proposta originaria, anche se il Presidente Smacchi dice che è in divenire, no? Sì, io spero che questa proposta che il Presidente ha comunque dichiarato è una proposta aperta e venga ulteriormente sviluppata ripartendo proprio dagli obiettivi. Oltre a quelli citati dal collega, c'è un altro obiettivo fondamentale, soprattutto sulla scorta di quanto è avvenuto anche in questa legislatura. Cioè, ovviamente il compito primario è il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e quindi dare loro la capacità di eleggere tutti i soggetti che entreranno in Consiglio regionale. Ma un altro compito è anche quello di avere delle maggioranze che non siano mere associazioni elettorali, ma che abbiano una visione e quindi un programma coeso. Perché dopo 20 anni ancora parliamo in Umbria della chiusura del ciclo dei rifiuti. Come chiuderlo, se chiuderlo. E questo naturalmente significa più roba che va in discarica e maggiori tasse per quanto riguarda la nettezza urbana per i cittadini. Per fare un esempio. Ritornando al tema, noi pensiamo che se la scelta, come ha ribadito il collega Smachi, è di carattere maggioritario, il doppio turno sia fisiologicamente insito nella proposta di legge elettorale maggioritaria. Ricordo ai telespettatori che il doppio turno è il sistema con cui si eleggono i sindaci, per esempio. Se non si raggiunge una certa quota c'è un secondo mazzo sopra i 15 mila abitanti. Per cui, noi siamo 900 mila, quindi un po' più di 15 mila abitanti. Per cui se una coalizione, se il candidato presidente di una coalizione non riesce a superare al primo turno il 50%, gioco forza, dovranno essere i cittadini a scegliere chi tra i primi due che arriveranno dopo il primo turno dovrà governare la nostra regione con la propria maggioranza. Così come, insieme al doppio turno, il sistema maggioritario deve prevedere il cosiddetto voto disgiunto, che nella proposta che veniva ricordata non è presente. insieme poi a tutta un'altra serie di osservazioni e di puntualizzazioni che sui 16 punti che sono stati esposti abbiamo già discusso nella prima seduta e che saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime. È evidente che i 20 consiglieri più il presidente rappresentano una oggettiva difficoltà per il funzionamento del prossimo Consiglio regionale o Assemblea legislativa, come dirsi voglia. Perché è vero che siamo una regione con meno abitanti, minore estensione rispetto a tante altre. Ma i compiti delle regioni sono quelli e quindi sia per quanto riguarda la sanità, i trasporti, cioè tutto ciò di cui la regione si deve occupare sono quelli. Io sono fortemente preoccupato perché un Consiglio a 20 considerando, io vengo da un Consiglio dove eravamo 30 e vi compreso gli assessori e il presidente, allora le cose funzionavano, il numero giusto era quello. Fu un errore tra il 2000 e il 2005 che la regione Umbria fece di aumentare il numero dei consiglieri fino a 36, fino a un massimo di 10 assessori che con il presidente raggiungevano 47 persone. Passare da 47 a 26, perché parliamo di 20 consiglieri, un presidente e massimo 5 assessori, io credo che sia stato proprio un errore fondamentale. Penso che sono i danni della riforma del titolo V, che ha introdotto tra l'altro la possibilità che ogni regione possa scegliersi la sua legge elettorale. Io penso che questo sia un autentico errore, anche perché io credo che i cittadini abbiano bisogno di una uniformità di leggi elettorali, per cui è stata citata la legge elettorale per l'elezione dei sindaci sopra i 15 mila abitanti, quella da cui era partito Renzi anche per immaginare la legge elettorale nazionale. Quindi occorre una uniformità perché ai cittadini non bisogna dargli dei modelli in cui ogni volta bisogna rispiegare quali sono le modalità di voto eccetera. Credo che il sistema maggioritario sia un sistema assolutamente da percorrere in tempi come questi soprattutto e credo quindi che il punto da cui noi partiremo sarà sicuramente la possibilità di avere il doppio turno all'insegna della democraticità e della vera governabilità. Smacchi, fra le critiche che sono arrivate, soprattutto da parte dei partiti che sono fuori dall'arco costituzionale, diciamo Umbro, e sono quindi emerse nell'audizione concessa le forze politiche che non sono presenti a Palazzo Cesaroni, il numero delle firme che sembra eccessivo, perché è stato stabilito in 3 mila il numero di firme da raccogliere per poter presentare una propria lista alle elezioni regionali. Ecco, su questo mi pare che si sta ascoltando un po' quello che viene da fuori. Assolutamente, intanto nella proposta c'è già una riduzione del numero di firme da proporre per presentare la lista e su questo già quindi c'è un segnale che va in quella direzione. Un ulteriore segnale credo che sia possibile, la Commissione lo valuterà sulla base anche di quelle che sono state le audizioni. Certo che abbassare troppo il numero delle firme significa anche un po' svilire il momento in cui viene creata l'idea, il progetto e poi viene elaborata la stessa lista. Cioè noi vogliamo che in qualche modo ci sia anche un minimo di movimento o lista strutturato che presenti la lista e che da quel punto di vista abbia poi la possibilità di partecipare in maniera dignitosa alle consultazioni. Per quanto riguarda però il voto disgiunto e il secondo turno, guardate in questo caso tolgo i panni di Presidente di Commissione e metto quelli di Consigliere del PD. È stato valutato se fare o meno il secondo turno. Abbiamo visto anche le statistiche di chi è andato a votare da quando c'è la legge che prevede i due turni. Sono statistiche che sono totalmente in discesa per quanto riguarda il numero dei votanti. Inizialmente, non so se vi ricordate i ballottaggi anche quelli famosi di Rutelli o di Veltroni per citare alcuni casi, al secondo turno andava l'1 o il 2% in più rispetto di chi andava a votare al primo turno. Ora siamo a decine di punti in meno rispetto a chi è andato a votare al primo turno. Tant'è che ad esempio nel caso di scuola di Perugia abbiamo visto che i voti presi dal Sindaco Romizzi al secondo turno sono inferiori e di molto rispetto a quelli presi da Boccale al primo turno. Quindi diventa un sistema non più adeguato e che di fatto fa sì che chi vince non è il candidato che ha preso più voti, ma è quello che al secondo turno ha preso più voti fra chi è andato a votare. Quindi c'è un sistema che di fatto non premia la quantità dei voti. Per quanto riguarda invece il voto disgiunto, guardate il voto disgiunto è una delle anomalie più grandi del sistema elettorale perché non premia più la filiera progetto coalizione candidato. È un'anomalia vera in cui c'è quella opacità in cui si decide di votare in consigliere la lista magari il candidato che esprime tutt'altro il progetto. Quindi di fatto per ridare quella uniformità, quella coerenza e per riavvicinare i cittadini il PD ha detto ma cerchiamo di ricreare una filiera di coerenza e soprattutto in cui siano conseguenziali il progetto, la coalizione e il candidato che rappresenta l'uno e l'altro. Di solito quando un ospite non è d'accordo scuote il capo, invece Mantovani strabuzza gli occhi. Allora sentiamo che cosa... Io credo che il PD dell'Umbria non abbia ancora metabolizzato il trauma delle elezioni comunali di Perugia. E da qui discende il suo di niego verso il doppio turno. Traspare da questo intervento del collega Smacchi l'anima dirigistica del vecchio PC, PDS, DS, oggi presente anche nel PD. O si ha fiducia nei cittadini e quindi nella libertà di esprimersi come vogliono oppure bisogna tutto sommato indirizzarli, convogliarli, come era la prerogativa del dirigismo tipico della sinistra italiana e Umbra in particolare. Ma che significa se al doppio turno ci vanno meno cittadini? È il cittadino che scegliere se andare o non andare e per chi votare. D'altra parte io penso che nella proposta del PD sotto il 40% avrebbe il candidato che prendesse più voti sotto il 40% prende comunque un premio di maggioranza del 55%. Quindi se le formazioni sono 8-9, quindi i candidati presidenti, un candidato con il 22% che magari arriva davanti a un altro che ne ha il 20, a un altro che ha il 18, un altro che… prende il 55% dei seggi, che è il contrario di quanto affermato nell'intervento precedente e cioè quello da parte del collega il quale ha detto che non bisogna mettere troppa differenza tra i voti effettivamente presi e il premio di maggioranza. Quindi ipotizzando uno scenario dove chi arriva primo arriva con il 22, il 23, il 24, il 25, il 26 o il 32, prende il 55%. La verità è che il PD ha paura del doppio turno perché sa che nel doppio turno potrebbe perdere il governo di questa regione. Questa è la verità. Consigliere Mantua, le 19 regioni hanno un turno unico e una soltanto la Toscana ha previsto il doppio turno, quindi tutte le 19 regioni hanno paura? Ma io non lo so, ma guarda ci sono di centro-destra, quindi non è che parliamo solo di… La mia critica, io ho fatto una critica, io vado per obiettivi e la vera filiera della logica è quella sugli obiettivi. Allora l'obiettivo deve essere ovviamente quello di favorire la partecipazione al voto e di costituire maggioranze che siano maggioranze politiche e programmatiche. Questo è il senso di responsabilità. Questo si ottiene evitando con il turno unico. La mia critica quindi va non solo alla regione dell'Umbria, ma va a tutti coloro che non prevedono il secondo turno. Chi c'è, c'è, tanto per essere chiari. Era per dire che queste valutazioni tutte le hanno fatte, non è che… Ma certamente, certamente, però da questo punto di vista è evidente che se si vuole raggiungere determinati obiettivi bisogna scegliere secondo quella che comunque è la legge elettorale, che è quella dei sindaci sopra i 15 mila abitanti, che meglio di tutte le altre ha consentito la governabilità. Aggiungo un altro aspetto. Evita il doppio turno di formare delle coalizioni, proprio perché si decide solo in un turno unico, che non sono omogenee e che non lasciano governare come abbiamo assistito in questi ultimi anni alla regione dell'Umbria, dove ci sono 4-6 consiglieri, i quali sono in difformità… Evita anche quegli accordi tra il primo e il secondo turno che sono tutto fuori da… Però io voglio ricordare che le ammucchiate che abbiamo fatto a livello nazionale, probabilmente da una parte con il sistema dell'Ulivo, dall'altra successivamente nell'ambito del centro-destra, i governi sono durati due anni. Prodi, durato pochissimo, sia nella prima che nella seconda esperienza il governo Berlusconi, per una serie di motivi analoghi dopo il 2011. Allora noi dobbiamo avere questo senso di responsabilità e che sia una sfida vera. Io nell'Umbria e il PD, in altre regioni potrà essere ovviamente il centro-destra, se si vuole riacquistare la fiducia dei cittadini, noi dobbiamo consentire una libertà di espressione che dal punto di vista progettuale e dal punto di vista logico abbia veramente un senso per creare le condizioni della governabilità. Per chiudere l'argomento, smacchi diritto di replica brevemente su quest'ultime… Io credo che i lavori della Commissione sono appena iniziati, anche se poi saranno sicuramente accelerati perché ci siamo dati come obiettivo quello di portare entro la metà di novembre e fare la proposta di legge in Consiglio, al fine di avere poi quei 4 mesi di tempo affinché tutti i partiti, tutte le liste abbiano la possibilità di raccogliere firme, costruire il progetto e fare tutti gli arrempimenti preliminari alla consultazione elettorale. Quindi su questo chiaramente, dato che la legge elettorale è la legge di tutti, insomma è la legge che regola poi veramente la rappresentanza democratica all'interno della nostra regione, e credo che dovremo trovare dei punti di contatto. C'è questa volontà, c'è questa disponibilità, quindi spero che tranne alcuni punti che in qualche modo ci dividono, su tutto il resto troviamo almeno una sintesi. Smacchi, chi ci sarà nel prossimo Consiglio regionale dell'Umbria si troverà subito di fronte a dei problemi immensi, sono i problemi della nostra gente, della popolazione, una popolazione estremata, una popolazione che vede le famiglie perdere costantemente il lavoro. C'è la grandissima crisi di Terni, che è una crisi industriale di livello europeo, ma che riguarda migliaia di famiglie Umbre, tra acciai speciali e tutti quelli che vi lavorano intorno. Lei non manca mai di ricordare che ci sono anche oltre mille cassi integrati nella zona dell'Umbria, più a nord invece, la crisi Merloni, tutta la zona dell'Alto Chiascio, insomma anche lì c'è grande sofferenza. Problemi quindi enormi, i 21 prossimi consiglieri si trovano in uno scenario dove devono subito immediatamente intervenire, subito essere operativi. Siamo a un punto critico, gli americani direbbero breaking point, nel senso che il nodo al pette ne è arrivato, tutta la problematica dell'ex Antonio Merloni non riguarda soltanto 1200 persone che sono quelli espulsi dalla Merloni, nel senso che sono in mobilità. Poi ci sono altri 600 che invece sono con la JP e che in questo momento non hanno alcuna prospettiva, perché l'acquisto da parte di Porcarelli degli asset si è rivelato un blef, come alcuni in qualche modo avevano sollevato in tempi non sospetti. Ma detto questo, è di ieri sera l'occupazione del Consiglio Comunale di Terni, noi siamo veramente vicini alle acciaierie di Terni, là il punto fondamentale è questo, mentre col discorso della Merloni si trattava di una crisi industriale, quindi una crisi aziendale, a Terni non c'è questo, là c'è una scelta di politica industriale da parte della Thyssen che ha deciso di ridurre progressivamente i propri investimenti su Terni, quindi non si può parlare di crisi industriale là, perché poi se si continua a parlare di crisi ci sono tutta una serie di conseguenze che sono legate alla crisi, là non c'è una crisi, c'è una scelta di politica industriale, è per questo che su questo tema, cioè quello delle acciaierie, il governo italiano, la regione Umbria e il comune di Terni devono ragionare con un'unica voce, si tratta della politica industriale del futuro dell'acciaio e del futuro di un'intera regione. Antovani, la crisi industriale c'è e le scelte anche purtroppo non dipendono esclusivamente dal governo italiano, come abbiamo potuto constatare, il futuro di questa vertenza quale può essere in tempi brevi? Intanto mi associo a quanto ha detto il collega per quanto riguarda queste problematiche che naturalmente hanno una dimensione tale in cui certamente occorre una condivisione tra gli enti locali e il governo, ma direi che per la sua dimensione coinvolge soprattutto il livello del governo. Io in questa vicenda non lo so se ci sono anche, non dico dei giochi, ma delle scelte diverse. Si parla che qualcuno, soprattutto nell'ambito della sinistra, stia facendo il gioco della cosiddetta cordata indiana tramite la marce gallia. Non ho elementi per dire se questa è un'ipotesi fantastica o concreta e quanta consistenza può avere una soluzione del genere. Mi auguro ovviamente che su partite come queste non si giochi in maniera non adeguata, perché questo sarebbe un fatto veramente molto grave. D'altra parte su queste cordate che vengono dall'esterno, il collega Smacchi lo sa perché per quanto riguarda Merloni si è parlato dei cinesi, dei turchi, così come a suo tempo, iraniani, così come a suo tempo per la Thyssen spuntarne i finlandesi. C'è una partita dell'acciaio che si gioca in Europa e certamente i competitori europei per ridurre la concorrenza e quindi avere più mercato pensano che si possa chiudere alcuni importanti punti di riferimento su Terni che potrebbero innescare un percorso, non dico che porti alla cucciola, ma a un ridimensionamento che mai ovviamente vorremmo vedere. Credo che da questo punto di vista il Consiglio regionale con un ordine del giorno all'unanimità ha affidato al Governo nazionale il compito, il difficile compito, perché bisogna essere oggettivi e non strumentali in questi casi di discutere fino in fondo e cercando di salvaguardare la qualità, perché stiamo parlando una volta tanto di qualità, quindi non parliamo di un'industria decotta, parliamo di un'industria di qualità e quindi da questo punto di vista stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione quali saranno gli sviluppi, augurandoci che siano i più indolori possibili. Siamo nelle mani del Governo dunque per quanto riguarda questa avvertenza e rimane un minuto soltanto. L'Umbria di grande qualità però si è già parcellizzata, rimpiccolita, tantissime piccole e medie imprese, anche piccolissime, sono ormai il nostro tessuto economico. Che cosa si prospetta? Qual è la risposta che darà la politica anche per tutti gli altri? La politica quantomeno a livello regionale sta cercando di utilizzare la prossima programmazione europea, quindi i prossimi fondi comunitari per dare ossigeno, per dare respiro, per rilanciare tutte quelle aziende, tutti quei settori che sono in difficoltà e per incentivare e promuovere invece le aziende che stanno già andando bene, soprattutto quelle delle export. È chiaro che stiamo parlando di centinaia di milioni di Euro che fra fondi europei, tra fondi che metterà il Governo centrale, tra fondi che metterà la Regione Umbria arrivano a circa 2 miliardi di Euro nei prossimi sei anni. Credo che con 2 miliardi di Euro, probabilmente sarà l'ultima programmazione vera e concreta con questi fondi, possiamo effettivamente mettere sul tappeto e sul tavolo soldi importanti per rilanciare l'economia e le aziende della nostra Regione. Mantovani, in pillole la chiusura? L'Umbria fino adesso ha saputo utilizzare abbastanza bene come quantità nel novero delle regioni italiane i finanziamenti europei. Non li ha spesi bene dal punto di vista, secondo noi, degli indirizzi. Nel senso che occorre il coraggio di indirizzare questi fondi verso quelle attività che avranno un futuro e soprattutto verso quelle attività e quindi con molto dispiacere non indirizzare per una mera sopravvivenza di qualche mese o di qualche anno alcune attività e soprattutto di spingere quei settori in cui questo è compatibile e cioè al mettersi insieme. Perché noi per competere nel mondo e se vogliamo esaltare le nostre qualità e potenzialità dobbiamo creare massa critica, altrimenti nel mondo non esistiamo. Ringrazio i consiglieri Massimo Mantovani, nuovo centrodestra, Andrea Smacchi, Partito Democratico e naturalmente voi telespettatori che ci avete seguito. Alla prossima settimana.